Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schumann Buongiorno, buongiorno e buon sabato 17 aprile, vigilia di Milan Genoa, domani 12.30, arbitro calvarese, oggi allenamento di rifinitura, parla Pioli intorno alle ore 14. Pioli ci esprimerà le sue sensazioni dopo questa settimana di lavoro, una settimana piuttosto turbolenta, notizie, notizie, notiziette. E quindi è stata una settimana, vogliamo capire sul piano del lavoro se tutto quello che è successo fuori abbia influito o abbia influenzato. Oggi nell'allenamento di rifinitura non ci sarà Zlatan Ibrahimovic che è parito ieri per la Svezia, rimarrà qualche ora insieme ai suoi familiari. Poi sarà pronto per cominciare la preparazione per il match contro il Sassuolo di mercoledì. Ma noi siamo concentrati sulla partita di domani. Una partita che dovrebbe vedere l'unico dubbio da lot su Kalulu favorito. Dovrebbe toccare a lui, giocatore magari che a San Siro può aiutare di più anche la fase offensiva. Rispetto a Kalulu, molto bravo magari a fermare gli avversari veloci, ma magari ancora un po' acerbo nel riproporsi in avanti. Con Tomori Chier, finalmente la nostra formazione, con Teo Hernandez, con Donnarumma, con Kessy Benasser, Ciananoglu dietro all'unica punta, che sarà Leao, con Rebic e Saleme Kers a destra e Rebic a sinistra. Dunque questo è il Milan in attesa che ritorni anche Calabria. Calabria sta progredendo, potrebbe esserci già in panchina magari contro il Sassuolo, certamente in panchina per il match contro la Lazio di lunedì 26 aprile. Dio mio come corre il tempo, stiamo già parlando di partite di fine aprile. Quindi questo aprile è volato. Però direi che la copertina la diamo a lui. A un giocatore che è il più triste, lui il più triste, per non aver regalato quello che lui avrebbe voluto regalare a se stesso e anche al Milan. E parliamo di Mario Scatenate l'Inferno, Mandzukic. Il gesto, ieri è stato rivelato, il gesto di Mandzukic che ha devoluto a fondazione Milan il mese di marzo, quando lui non ha lavorato, ma non per scelta sua, ma soprattutto perché ovviamente era infortunato, non vuole portare a casa questi soldi, non li ritiene meritati, ricorda un po', vi ricordate qualche anno fa, Redondo. E allora ha deciso, no, questo, signori, sono circa 300 mila euro lordi, perché lui prende un milione e 800, un milione e 800, anzi 300 mila netti, perché lui prende un milione e 800 mila, questo per questi sei mesi di Milan, sperando che magari convinca tutti, convinca noi, convinca se stesso a rimanere se dovesse entrare in campo e realizzare i suoi sogni, cioè diventare importante nel Milan. Ebbene, 300 mila netti che vanno devoluti a fondazione Milan, che poi li devolverà, ovviamente in base alle decisioni all'interno di fondazione, di questa fondazione che ha fatto del bene da anni e anni e anni e anni e anni, quasi decenni. E quindi bello questo gesto, mi piacerebbe domani una bella prima pagina, speriamo che dopo tanti piccioni, leoni, scommesse, squalifiche, gialli, ti sembra strano o è, sempre il Milan, Donnarumma, la Juventus e altro e altro e altro, domani ci sia un bello spazio anche per questo gesto di Mandzukic, che ripeto è il più triste, mi dicono che è quasi alla rabbia perché non riesce a esprimersi al meglio. Speriamo che questa settimana non iniziate in maniera spettacolare, perché anche lunedì mi hanno detto che non era stato brillantissimo nella partitella contro la primavera, gli abbia potuto mettere benzina nelle gambe. Sarebbe meraviglioso che il dio del calcio, come mi piacerebbe, restituisse a Mandzukic la sua vigoria, proprio come premio, la sua vigoria, il suo senso del gol, la sua determinazione, il suo spirito di sacrificio che l'ha fatto diventare un idolo dei tifosi bianconeri. Ecco, io mi auguro che il dio del calcio sia benigno, voi sapete che lui è benigno o maligno, dipende dai suoi umori, ecco che sia benigno il dio del calcio e possa regalargli una grande gol, una grande soddisfazione per la felicità dei tifosi del Milan, ma per la felicità sua quasi come premio per questo suo gesto splendido. Non è piageria o poesia, però un giocatore che dice no, non merito un mese, ma fosse per colpa sua, ma lì è stato sfortunato, gli è saltato un muscolo e poi c'è stata una specie di ricaduta, quindi era assolutamente innocente. Però non se l'è sentita di prendere questi soldi e li ha devoluti a Fondazione Milan. Un applauso a Mario Scatenate l'Inferno Mandzukic, un giocatore dal forte spessore umano e ci sono anche altri episodi che lo sottolineano. C'è sempre un appendice riservato al calciomercato, ieri avevo parlato di un Milik, non era una notizia, era una mia riflessione che sarebbe un giocatore forse importante per la sostenibilità del costo e per la qualità del giocatore. Ma ieri si è spassa la notizia o perlomeno l'indiscrezione o perlomeno il rumor di un eventuale interessamento del Milan per D'Ambrosio, valido terzino dell'Inter, che è in scadenza, sembra che l'Inter lo voglia ancora per un anno. Il Milan, si diceva, avrebbe sottoposto al giocatore che ha come procuratore agente quello anche di Insigne che è stato qualche giorno fa nella sede del Milan e si pensava potesse aver offerto o parlato con il Milan di D'Ambrosio, magari con un biennale. Ecco, non ho avuto sinceramente riscontri in questo senso, non dico che sia una notizia falsa, però mi sono informato e non ho avuto riscontri in questo senso. Oggi, se dovessi io ipotizzare l'arrivo di D'Ambrosio al Milan, direi che oggi mi sembra piuttosto complicato e difficile. Quindi ho usato tutti gli eufemismi per rispetto alla fonte che ha dato questa notizia, ma non ho trovato riscontri né forti né deboli riguardo a questa possibilità che il difensore di fascia dell'Inter, che sarebbe stato eventualmente preso per la fascia destra come supporto a Calabria. Ecco, è una notizia che non ho avuto conforto, non ho avuto la conferma o riscontri. Quindi sono molto pallido, sono molto pallido riguardo a questa possibilità. Quindi vi do io una notizia, non credo che possa venire al Milan D'Ambrosio. Poi vedremo, vedremo perché poi ce l'evolversi del calcio mercato. Dunque, chiudo ricordando ancora una volta, Donnarumma, Dalot, Tomori, Chier, Teo Hernandez, Kessimenasser, Selemecher, Cialanoglu, Rebic e là davanti il buon Urbinate. L'Urbinate, Raffaello, Sanzio, speriamo che disegni un bel, con un colpo di pennello, dico sempre io, gli artisti da una tela bianca con un colpo di pennello creano il capolavoro. Vai, Urbinate, crea il capolavoro. Prossimo video, la conferenza stampa di Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegari.